e siamo già arrivati al 6 di agosto con il nostro almanacco oroscopo ancora ben trovati da mauro e si festeggia oggi santa gesualda compleanni gerry holloway o gary holloway la cantante inglese è nata il 6 agosto del 1972 e poi abbiamo il conduttore televisivo marco liorni 6 agosto 1965 sono tutti pronti i nostri 12 segni l'almanacco finisce qui e adesso l'oroscopo prima la frase cadendo la goccia scava la pietra ariete la giornata odierna è in perfetta sintonia con il vostro temperamento tumultuosi velocissimi nel cogliere al volo le situazioni sarebbe opportuno afferrare la palla al balzo e chiarire il vostro pensiero a chi vi ha giudicato superficialmente toro oggi continuerete a camminare con la testa girata ai ricordi del passato provate un'acuta nostalgia forse a causa di una ricorrenza che vi ha trascinati nel mondo della vostra fantasia qualcuno non trova il coraggio di avvicinarsi a voi incoraggiatelo un po gemelli questa settimana il vostro aspetto fisico non è dei migliori vi sentite nervosi ed irritati anche se non ne avete motivo e per tutta la giornata dire il vero non si prevedono schiarite potreste però cercare di tirarvi su di tono facendovi un piccolo regalo cancro la luna vostra consigliera oggi vi guiderà per mano sull'onda del sentimentalismo sarete di notevole aiuto ad un'amica che vi chiederà consiglio per i suoi problemi d'amore il vostro parere riuscirà a sbloccare la situazione attenzione però a non essere troppo ansiosi leone avrete voglia di spendere cercate di scegliere cose non eccessivamente vistose che alla lunga vi stancherebbero non cercate continuamente di essere al centro dell'attenzione stanchereste chi vi sta accanto con il rischio di non essere più ascoltati moderatevi vergine chi non risica non rosica quel lavoro non potrà venire a voi se non vi darete da fare a richiederlo ci sono ottime possibilità che vi venga affidato non siate sempre così intimiditi nell'esporvi in fondo non avete nulla da perdere per acquistare energia indossate qualcosa di rosso bilancia oggi dovrete prendere un'importante decisione non continuate a tormentarvi su quale sia giusta e quale sbagliata ma ditevi che ciascuna porterà solo conseguenze differenti cercate di avere più fiducia nelle vostre risorse vi sentirete più affettuosi del solito scorpione sarete particolarmente forti in questo giorno fate attenzione al tipo di atteggiamento che userete nei confronti degli altri potreste dare l'impressione di parlare agli altri con termini di comando potrebbero esserci delle ribellioni per voi in attese sagittario non limitatevi ad ascoltare le ansie di quella persona ha bisogno di ricevere da voi una massiccia dose di fiducia e sicurezza tutto bene nel lavoro anzi qualcuno parlerà di nuove prospettive prestate molta attenzione perché per voi in questo momento tutto è favorevole capricorno non preoccupatevi eccessivamente se quanto detto a un amico è stato male interpretato presto capirà di avere mancato di fiducia nei vostri confronti e ve ne parlerà apertamente la situazione economica migliora sensibilmente grazie ad alcune operazioni fortunate acquario vi troverete nel bel mezzo di una disputa e sarete invitati a dire la vostra opinione fortunatamente sarete molto spigliati nel rispondere e riuscirete ad allontanare quella tensione che si era creata il vostro ottimo umore riuscirà a contagiare gli altri pesci sarete costretti ad un'attenzione continua nel lavoro per voi sarà estremamente difficile mantenerla vi sentirete frastornati dalle voci di chi vi circonda non dimenticate che gli altri non stanno vivendo momenti come i vostri e quindi per loro è naturale chiacchierare tranquillamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti